Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenuti e benvenute in questo nuovissimo appuntamento di Bus Discovery. Oggi parleremo di corde, per esattezza corde made in Italy, Dogal Strings. La Dogal è un'azienda italianissima che costruisce corde a mano, cioè le costruisce interamente a mano, quindi abbiamo delle corde di tipologia diversa e di diversi materiali. Oggi parleremo delle corde di basso elettrico, in particolare del modello in nickel. La Dogal Strings fa anche corde per strumenti ad arco come contrabbasso, violoncello, violino e viola, corde per strumenti etnici e acustici e anche corde naturalmente per strumenti elettrici. La Dogal sta a Venezia. Per il test utilizzerò un Alusonic Django, 4 corde Special Edition, dove monterò le corde in nickel. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! In breve delle impressioni su queste corde. Le corde in nickel sono delle corde classiche come materiale, naturalmente un materiale diffusissimo come il nickel, anima esagonale, quindi abbiamo una corda con molta tensione, ma non è una tensione esagerata. Poi abbiamo una corda molto brillante, ma una corda che comunque tiene le sue qualità nel tempo. Una una corda molto bella per il pizzicato, bella come risposta per il plettro e comunque riusciamo a suonare molto bene anche in slap perché ha una bellissima risposta. ciao a tutti e ciao a tutte da Gianni Gadau e Bassi Discovery. Alla prossima, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!